Quarta vittoria consecutiva, seconda di fila in trasferta per l'Umana, che passa al Forum 84-80, sale a 22 punti in classifica e aggancia proprio l'Ea7 e la Germani sul secondo gradino. Si interrompe a 4 incontri la striscia positiva di Milano, buono l'inizio di Gaudeloc e più 6 per i padroni di casa dopo 3 minuti. Risposta immediata di Tonut, Eynes e Orelik, parziale di 23 a 11 in 7 minuti e più 6 per i campioni d'Italia al decimo. Eynes, 14 punti alla pausa, è ispiratissimo e permette alla Reier di toccare il più 7. L'Olimpia si affida a Diodor, Bertans e al solito Gaudeloc e rientra a meno 1, 43-44 all'intervallo. In avvio di ripresa, De Raffaele perde Orelik per infortunio. Difese, meglio degli attacchi, parità al 27esimo, 60-59 al 30esimo. Nella quarta frazione, Bramos, Johnson e Watt sono gli artefici del 13 a 1 che vale il più 11 umana al 35esimo. Due triple di Gaudeloc e Gudaitis riportano le A7 a meno 3, meno 2 al 39esimo. Decisivi Eynes, Johnson e Watt. 25 su 40 da 2 per i Veneti, contro il 22 su 45 dei Lombardi. Ventello con 8 su 12 al tiro per Eynes, 16 e 7 rimbalzi per Watt. Dall'altro lato, 28 per Gaudeloc, con 5 su 7 da 2 e 6 su 10 da 3. 17 con 6 su 6 dal campo, 11 palloni catturati, 5 falli subiti e 30 di valutazione per Gudaitis. Grazie a tutti per aver guardato il video.